Buonasera signore e signori, sono Esci88, benvenuti con la sedicesima parte della nostra Nazilook Challenge Quest'oggi, prima di tutto, volevo augurarvi un buon 2014, questo è il primo video del nuovo anno Quindi, augurissimi di buon Natale e, anche se è passato, di un buon Santo Stefano Quindi auguro, auguro, auguro a tutti Stefano, appunto Una felice festa, felice festa, dai, chiamiamola così, il loro onomastico, appunto E comunque sia buon 2014 a tutti, spero che, ecco, sia iniziato con i migliori dei propositi Spero anche che, appunto, Babbo Natale, per chi ci crede, perché esiste, per qualcuno Comunque sia, avete ricevuto i regali che vi piaceva ricevere, magari qualcuno di voi ha ricevuto anche qualche nuova console Fatemelo sapere che regali avete ricevuto E oggi siamo qua, il 3 gennaio, appunto, il terzo giorno del nuovo anno A giocare a Pokémon Plat, la nostra Nazilook Challenge Avevo iniziato già a fare questo video poco fa, ma purtroppo la mia tastiera ha deciso di morire Era già morta un po' di tempo fa, la tenevo poco in vita Però è crepata, quindi ne sono dovuto andare a prendere un'altra in fretta e furia Anche perché tra poco entro al lavoro Ne ho presa uno della Logitech K120 Vabbè, così all'expert è proprio sgamosa Siamo qua oggi, appunto, all'uscita della palestra di Omar Parlando, appunto, con il suddetto e Diaman Che ci dice che un membro del Team Galassi ha attaccato all'osservatorio Ha fatto esplodere una bomba, appunto, su Pratopoli E dobbiamo andare a scoprire cosa è successo Quindi la prima cosa da fare è andare a curare la nostra squadra, ovviamente Ok Perfetto Dato che l'ultima volta si erano anche comportati bene Mi riconto contro Omar l'anno scorso Cioè, veramente, Vaniglia, Terqua e... Oppa, avevano giocato benissimo Spago, ovviamente, non ha potuto partecipare Qui c'è quell'imbecille di Diaman Wow Ok, mi avete scambiato per un sasso Guardate che ci sono io Allora, dov'è questo titolo del Team Galass? Boom! La bomba è esplosa Eccola qua, di nuovo Recrua, fiu, che botto Tu, cosa hai fatto? Cosa ho fatto? Dici, beh, te che non sono stato io Vedi, il pacco che è arrivato era una bomba La bomba galattica Ho ricevuto l'incarico di premio di pulzetta E l'ho fatto, tipo, click Oh, giusto, quasi dimenticato Devo fare il rapporto sull'esito della missione Ciao, ciao E se ne sta andando Quindi la grande palude è stata attaccata E Omar con Diaman andranno a... Vedere, a preoccuparsi dei Pokémon Quindi noi dovremmo seguire quella recruta del Team Galass Ovviamente più ci avvicineremo e... E più, appunto, questa si allontana Fino all'ultimo in cui dovremmo, appunto, affrontarla Ok, dai Ehi tu, stavi urliando, vedo, stavo solo pensato ad alta voce Ma non perderò certo il mio tempo con te Ok, quindi proseguiamo Ok, passiamo giù Io di regali ho ricevuto soltanto un paio di pantaloni Anche perché comunque queste sono abbastanza grande Rispetto magari a prima che ricevevo tantissimi giochi Che bei tempi E quindi... Ho ricevuto soltanto un paio di pantaloni Ma per me è già tanto anche questo Cioè, bene o male lavoro Quindi le mie piccole cose Tipo, ora sono andato a comprare la tastiera L'ho fatto Posso farlo bene o male sempre Quindi, ecco, non mi lamento Magari... Ecco, una volta se non ricevevo... Cioè, una volta ricevevo magari più giochi Più regali Però ovviamente quando si cresce Non è... È facile, ecco, che... Si ricevano un po' meno regali Quindi, con bell'occhio ci dice di raggiungere la ripavalore E quindi a questo punto penso che... O scappa un'altra volta Oppure inizia qui la partita La battaglia Eccola qua, dovrebbe iniziare qui Oh, sei ancora qui Si vede il lago Non mi lasci altra scelta La mia squadra di Pokémon ti stenderà Mi pare ne abbia due dei Pokémon No, no, una La mia squadra di Pokémon Dimmi te Allora, usiamo Ira di Drago Perfetto Usa Bullo Penso che ho un altro Vendetta Quanto mi toglie? Bene, non è molto efficace Sbigo, attacco Confuso Sostituiamolo con Spago Vai, che è meglio Usiamogli Ruota Fuoco Perfetto Ok Non riesco più a lottare Sono senza fiato Dovrò dirlo al comandante Vorrei... L'ho usato al lago Bene È sparito Perfetto Arriverà questa tizia Camilla Oh, ciao Chi si rivede? Ci si rivede? E non chi si rivede? Come va con il tuo Pokédex? Sono qui per fare delle ricerche sulle storie che raccontano sul lago Beh Sembra che il lago sia chiuso al pubblico in questo momento Conosci le leggende che circolano? Sembrano che in mezzo al lago ci sia un'isola E che sull'isola ci sia Pokémon Miraggio Nessuno deve entrare nel luogo in cui viveva il Pokémon Oh, già Devo parlarti un'altra cosa E boom Arriva Diamant Che ovviamente Arriverà a dare noia E... Prende e ripartirà Adesso Camilla dice È uno strano... È un tuo amico È una strana persona Comunque sia Se vi ricordate Vicino al percorso 210 Vicino al caffè Pokémon Avevamo trovato dei Psadak Che non ci facevano passare Adesso ci ha dato una pozione Per curarli dal loro mal di testa E dalla loro persistente emicrania E... E quindi potremmo andare avanti E... Appunto a cercare i Pokémon Quindi Pozione Usiamo queste qua su Hope Intanto ce ne abbiamo anche abbastanza Perfetto, grazie mille E proseguiamo avanti Io quindi non vi farei vedere tutto L'Ambara Dama Ma tanto ormai L'abbiamo abbastanza appreso Ci ritroveremo Praticamente davanti agli Psidak Ok, eccoci qua Siamo ritornati al percorso 210 Allora Curiamo gli Psidak Il gruppo di Psidak è immobile Nessuno di loro tende a spostarsi Vuoi usare la pozione segreta? Esatto Perfetto Adesso gli Psidak si risvegliano Boom E... Ripartono Questo va a sinistra Ovviamente il... Più intelligente Ok Quindi possiamo anche andare No, perché arriva Camilla Oh bene Hai usato la pozione segreta Che ti ho dato Gli Psidak soffrono di mal di testa cronico Ma nessuno è mai riuscito a capire da che cosa si è causato Ah già, posso chiederti un favore? Vorrei far avere questo arcamuleto a mia nonna memoria Se è che sulla strada per memoria ci sono poi poche morari Quindi penso che per te che vanga la pena Sì, dai Ho pigiato S che sarebbe in realtà B ma in realtà volevo pigiare sì Ok, quindi proseguiamo e penso che qua sia un nuovo percorso Vediamo un po' No, penso facci parte del 210 Quindi tecnicamente qua non possiamo prendere nessuno Anche perché comunque sia un po' nita Ok, qui mi sembra che era un allenatore Un frascato, uno del trio ninja Dobbiamo lottare contro questi allenatori Perché i nostri Pokémon Come sapete Non hanno un grosso livello Siamo partiti che Con un Un Diciamo un quintetto di Pokémon Un sestetto Come si dice? Una squadra Diciamo una squadra di Pokémon E poi ci hanno tritato tutto E quindi Appunto abbiamo dovuto riprendere nuovi Pokémon E E non è facile E questo è il bello della Naziluk Challenge Perché Comunque sia Tu non sai mai Che Pokémon troverai Non sai mai la squadra Che avrai alla fine Certo Se sei magari Parecchio fortunato Allora è un conto Cioè ce la fai bene Riesci ad arrivare fino all'ultimo Eccetera eccetera Però ecco E' bello anche così Altrimenti Cioè utilizzare Sempre Bene o male I soliti Sei Pokémon forti Che tutti conoscono Vedete visto Nella guida E' abbastanza facile Così secondo me E' molto più divertente Ok Quindi usiamo Irra di Drago Che falliamo Perfetto Quindi Mandiamo Spago Perché Geridos Mi sembra Un po' in difficoltà Più che altro Geridos E' in difficoltà Perché non ha mosse Acqua O comunque Si ha mosse fisiche Geridos è un Pokémon Molto forte Secondo me Uno Tra l'altro Anche dei miei preferiti Ok Sostituiamo Lo mandiamo Hop Che tra l'altro Geridos Ora Avevo letto Non mi ricordo Forse con Dario Moccia Che ha fatto La Pokémon Antology Mi sembra Che Geridos Doveva essere Oddio L'evoluzione Di un altro Pokémon E Magikarp Di un altro Ci sono Queste Queste un po' Di dicerie Queste cose Però ecco Mi piace Che Comunque sia Se uno va a vedere Le leggende Giapponesi E cinesi Quindi Asiatiche Orientali Ci sono Che Comunque sia Le carpe Le carpe Che sono Gli animali Simbolo E sacri Del Giappone Comunque sia La leggenda Vuole che una carpa Quando Voleva Via Perché ora È un po' Magari abbandonata Comunque sia Ripresa nella loro Credenza Una carpa Quando Riesce a risalire Una cascata All'incontrario Uno Swaoblu Cavolo Questo sarebbe Non sarebbe male Da catturare Però purtroppo Questo Il percorso Abbiamo già Già passato Quindi magari Se lo troviamo Nel prossimo Lo catturo Vuole che Appunto Quando Una carpa Riesce a risalire Una cascata Ovviamente Controcorrente Non Risale Quando Ci riesce La carpa Diventa Un drago O almeno Diventava C'era questa leggenda Che la carpa Diventava Un drago Quindi Una leggenda Vecchia Popolare Quanto volete Però Insomma Non è Non è malvagia Ecco C'è C'è stato Un tempo In cui Appunto Si credeva Queste cose Che comunque Sia Gli imperatori Invece Cinesi Quando morivano Diventavano Draghi Ce n'erano Un sacco Di queste Dicerie Oramai Forse Sono anche Un po' Passate Però Insomma Molto divertenti E sicuramente Nei pokemon Un misto Di leggenda Misto Verità C'è Assicuramente Perfetto Quindi Dobbiamo Atterrare Questo grotol A livello 33 Non è male Per un allenatore Scarzo Un allenatore Comune Così Avere un grotol Non è assolutamente Malvagio Ok Perfetto Spago Bene 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 Salgono Un po' Tutti Gira Farig Il nostro Gira Farig Mettiamo Vaniglia Perché Non lo vedo Proprio Informissima Con questa Nebbia Tra l'altro Si riesce Anche a A perdere Un po' Di precisione Sì Devo dire Che Si perde Un po' Di precisione Morso Di nuovo Ok Spago Sare a livello 28 Tenta di imparare Il riduttore Poce di colpo Coda Sempre un attacco In più Perfetto Grazie mille Qui c'è una lotta Doppia Che io vorrei fare Però Devo un attimo Curare la nostra squadra Ovviamente Pozione Una Pozione Due Pozione Tre E Pozione Quattro Perfetto Via con la lotta Doppia Doppia Ok Zac E Quello Come si chiama Quell'altro Zac E Gen Un Geridos Un Raichu Mamma mia Bello Due al 36 Contro Due al 28 Io quindi Manderei Terqua E Vaniglia Per non Rischiare Appunto Bene Hanno Meno Due Di Attacco Non male Perfetto Tutti Falliscono Quindi Schianto Su Raichu E Scintilla Su Geridos Geridos A livello 36 A gelodenti Non sarebbe Male Con attacco Peccato Non riescono Ad attaccare Raichu Usiamo Gli Un Così vai Vaniglia Falliscono Tutti Ma io Tra l'altro Ho anche Pantano Bomb Non riesco A aprire Perché Stavo Utilizzando Schianto Terqua Che però Fallisce Un sacco Di attacchi Questa Maledetta Maledettissima Nebbia Sta Creando Un po' Di problemi Perfetto Abbiamo preso Anche un sacco Di soldi Un altro Fantallenatore Di solito Fantallenatore Mi ricordo Infatti Sono Hanno dei Pokémon Di livello Più alto Pokémon Assolutamente Differenti Rispetto Agli altri E Tra l'altro Danno anche Più soldi Quindi Non male Probopass Perfetto Abbiamo Ira di Draco No Ha fallito Quanti C'è No Zero No Dobbiamo Sostituirlo Mettiamo Terqua Anche Terqua Non Non ha Non ha Mosse Non ha Mosse Acqua Bene 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 Usiamo Schianto Ovviamente Fallisce Oh Si è addormentato Probopass Mamma mia Forse Proviamo Con Spago Ma Non vorrei Che Si risvegliasse Ecco Infatti Perfetto Rimandiamo Terqua E dobbiamo Fare addormentare Assolutamente Ok Usa Frana Di nuovo Pantano Bomba Ovviamente Non credo Che Che sia utile Perché Dovrebbe Volare Non voglio Fare Fuga Non voglio Fare Fuga Grazie Continua Con Schianto Una Brutta Situazione Questa Usa Frana Di nuovo Non voglio Perdere Terqua Proviamo che siamo messi Malaccio 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 Vendiamo Il vaniglia Usa Frana Ovviamente Evita Proviamo con Morso Fallisce Uh Brutto Colpo Dai 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 Mer Cavolo Non si dicono Le parolacce Però ovviamente Intanto ci vorrebbe Usa Frana Mamma mia Bombagnete Eh sì Vabbè Cioè È impossibile No 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 Mamma mia Sì Va bene Ok Ah bene Ce l'abbiamo fatta Ok Meno male Luxio Andiamo Gli scintilla Perfetto Zabull Eh ovviamente Qui sarebbe da mandare Terqua Ma ho paura Ho paura Ho paura Ho paura Ho paura Ecco Terqua Mandato K Perfetto L'altro Pokémon Perso Mamma mia Arrivato a fuoco Fallisce Eh Eh Grande Spago Grande Resistesse Eccolo Spago Mandato K Perfetto Andiamo Hop E a questo punto Mandiamo Vaniglia Se almeno Oh Viene mandato K Perché brucia Che cosa Tornado Posso di splash Sempre un attacco in più Ovviamente fa pena Però Andiamo Hop Stavolta La lacerazione Andiamo Gli tornato Vediamo un po' A parte che è drago Non è che gli facci molto Paralizzato Ovviamente Dai Dai Oddio Come siamo messi Siamo messi male Oh Viene mandato K O Mandiamo Vaniglia Usiamo gli azione Azione di nuovo Perfetto Rimane soltanto Vaniglia Oddio Gesù Cristo Questa Nazilux Challenge Mi uccide Alla fine Veramente Non Non penso Che Che Cioè Non riesco a fare Proprio una Una squadra Che me la distruggono Tutti Avveramento Scuotatura Sonno Perfetto Ok Proseguiamo Avanti Vediamo un po' Qualche c'è Se ci sono altri allenatori C'è un altro allenatore Quindi Io sarei anche Fammi vedere da quanto Stiamo registrando Da 17 minuti Credo che termini qui La parte numero 16 Abbiamo perso Altri tre Membri Della nostra squadra Ovvero Hop Spago E Terqua Molto bene Quindi Come al solito Vi dico Votate Commentate Iscrivetevi Ciao 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 Ragazzi